Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial, oggi partiamo con la seconda lezione del corso su Cinema 4D corso come sempre, tra virgolette. Oggi vi parlerò dell'oggetto telecamera e vi darò un breve accenno sulle animazioni che vedremo meglio poi nel tutorial successivo. Dunque, come prima cosa e come visto poi nel primo creiamo un oggetto, un cubo, ci serve per fare l'esempio, abbiamo qui in alto a destra il riepilogo degli oggetti creati e quindi ho subito il cubo. E cosa vado a creare? Vado a creare un oggetto camera. Posso crearla in alcuni modi diversi, chiaramente utilizziamo una camera standard, precisando per esempio una camera stereoscopica, come dice il nome, si tratta di un'altra dimensione, movimento camera e l'animazione che poi andremo a dare, caso mai, e camera con target è un tipo di telecamera, per esempio, che punta su qualcosa. Allora, quando creo l'oggetto telecamera facciamo meglio creare quello normale, che qui ci crea anche un altro sottolivello che è a livello di target, che in questo caso punta sul cubo. Ricordo ovviamente che in inglese target significa bersaglio. Allora, creo un oggetto camera semplice e vedo che sulla mia vista viene creata questa inquadratura, questo quadrato. Quadrato che ho ovviamente anche sulle altre visuali. Dalle altre visuali però vi comincio a vedere l'oggetto telecamera, quindi vedo proprio la mia telecamera dove è fisicamente. Posso interagire chiaramente da qualsiasi finestra, posso spostare la mia telecamera che ho selezionato l'oggetto sposto e quindi posso avvicinarla e vediamo che dinamicamente la mia inquadratura si aggiorna. Posso anche spostarla, ovviamente, ed eccola che la vedo sbucare praticamente. Vedo dove si trova, si trova oltre il mio oggetto. Comunque, utilizzando la visualizzazione a livello di prospettiva posso sempre avvicinare, lontanare quello che è e posso andare a vedere dinamicamente dove si trova la mia telecamera e cosa sta puntando. Quindi se vado, se passo di qua, vedo cosa sta guardando la mia telecamera, e cioè la facciata del cubo. Se provo ad alzarla e la faccio puntare, il puntino centrale, il target visivo, dovrei riuscire a vedere spostandola, ruotando il cubo praticamente. Ed eccolo qui. Sono riuscito a spostare la mia telecamera che puntava dall'altra parte ed ho qui davanti il mio cubo. Riprendendo di qua ottengo la visualizzazione della telecamera quella là in prospettiva. Perfetto. Dunque, quindi, andando su questo pulsante qua posso andare a vedere qual è l'inquadratore della mia telecamera. Posso imprimere un'animazione, uno spostamento alla mia telecamera, oltre ovviamente a poter interagire come hai visto. Quindi utilizzando lo strumento sposta posso spostarla su e giù. Ovviamente devo accertarmi che per ogni tipo di movimento che l'oggetto che voglio inquadrare sia incluso ovviamente all'interno della mia inquadratura. Posso variare la distanza. In questo caso il target lo avviciniamo un pochettino perché è troppo lontano. Vado a girare e ce l'ho qui davanti. Poi ovviamente oltre a spostarla posso anche ruotarla. Quindi posso imprimere una rotazione. Vabbè, facilissimo come al solito. Ok, ovviamente voglio inquadrare il mio cubo. Cliccando poi sull'oggetto telecamera qui sotto dove posso modificare tutta una serie di parametri abbastanza interessanti. Diciamo, questo pannello ci fa capire quanto sia completo Cinema 4D come software. Poi anche il fatto, come ripeto, che sia in italiano ci agevola particolarmente. Allora, posso andare, come al solito vi ricordo di smanettare su questo tipo di comandi e vedere quali sono tutti i vari risultati. Io vi faccio un esempio. Allora, vado con proiezione prospettica. Quindi prendete che quando vado a visualizzare ottengo la visione tridimensionale. Chiaramente se mi sposto qui sposterò anche la mia telecamera con la visuale. Ok, quindi adesso se torno indietro, ho spostato lievemente la mia telecamera. Allora, posso scegliere la lunghezza focale. In termini quindi di obiettivi, chi mastica un pochettino di fotografia può capire bene. Basta dire comunque che la lunghezza focale, quanto più è alta, tanto più si ottiene uno zoom. Quindi se io aumento, come vediamo, la mia lunghezza focale, vedo che ottengo il dettaglio dell'oggetto che sto inquadrando. Mentre se mi allontano, il numero diminuisce, ottengo un campo visivo sempre più vasto. Perfetto. E l'ottengo dinamicamente, molto comodo. Poi ottengo anche, vabbè, sempre per chi mastica di fotografia, posso andare a vedere a quanto ammonta la lunghezza a 35 mm come focale equivalente. Però questa è un'altra cosa. Altri parametri in cui si può spalentare sono quelli dell'angolo di inquadratura e il campo di vista verticale. Vabbè, ovviamente si adatta. Posso anche scegliere di mettere a fuoco o meno un oggetto, in questo caso lo lasciamo stare, posso selezionarlo. Quindi dipende se seleziono il cubo, poi ho altri oggetti, in caso mai essi escono fuori fuoco. Quindi li vedo sfocati. E poi posso anche personalizzare, in caso di elaborazioni elaborate, chiaramente in questo caso un cubo anonimo grigio, in caso di colori, il tipo di temperatura. Sempre con questi sono tipi di dati che riguardano principalmente la fotografia o perlomeno il fare i video. Stati fatto che comunque man mano che cala la temperatura viene data prevalenza ai colori freddi, quindi come il blu per esempio, che è il rappresentante. Mentre se vado verso le temperature calde, quindi più alte, privilegio i colori caldi, quindi che possono essere rosso, per darvi un esempio, farvi capire bene. Perfetto. Molto semplice a mio parere, questo diciamo era quanto riguardava la telecamera, dovrei darvi un accenno per quanto riguarda le animazioni. Ve ne parlerò meglio nel prossimo tutorial. Dunque, creare delle semplici animazioni con cinema 4D è estremamente semplice. proprio partendo anche dalla telecamera, ve l'ho spiegato appunto prima, rispetto alle animazioni, perché si può anche creare una bella animazione utilizzando semplicemente lo strumento telecamera. Lo vedremo meglio poi nel prossimo video. Come avrete inquadrando un semplice che posso creare un piccolo video, una piccola renderizzazione abbastanza simpatica. Comunque, al di là di questo, molto semplicemente l'animazione viene gestita con questa barra qui sotto, che abbiamo ovviamente nel layout, interfaccia di lavoro, poi ovviamente ce ne stanno anche altre che si possono personalizzare. In questo caso, per dirvi, farvi l'esempio che è sempre presente. Dunque, all'interno di questo pannello abbiamo vari pulsanti, tra cui questi qua sono quelli principali, che ci permette di registrare le animazioni. Lo vedremo come, ripeto, meglio nel prossimo video. Vi basta sapere al momento che qui sotto ho i fotogrammi per secondo. Quindi posso creare un video di X secondi adottando uno standard di 30 fotogrammi al secondo di solido, le lenti SC, e quindi giostrando e quindi spostando questo tipo di indicatore posso andare a scegliere in quale momento del video deve crearsi una particolare animazione. Ovviamente qui semplicemente posso cambiare il numero di fotogrammi al secondo. Se metto 180 e vado su OK, vedo che spostando la mia barra, la mia barra diventa di 180 fotogrammi. Automaticamente da 3 secondi si è passati a 6 secondi, a seconda sempre dello standard adottato. Posso andare avanti in giro con questa qui, quindi potete cercare di gestire sfiorando la perfezione, perché andando addirittura a giostrare sui singoli millesimi che compongono i miei fotogrammi. Posso semplicemente creare, come detto, quindi delle animazioni anche volendo abbastanza lavorate. Allora, il tutorial finisce qui. Io come al solito vi ricordo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto o vi è servito. Se avete delle domande scrivete nei commenti. Continuate a seguire il corso, pubblicherò una lezione ogni settimana. Quindi io per il momento vi saluto, ci vediamo al prossimo video per le animazioni e vedremo come creare pochi semplici passi e un'animazione simpatica. Poi ovviamente, come al solito, smanettando, si possono creare anche lavori molto carini in termini di grafica tridimensionale. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.